Sì, mamma mia, certe bombe mi faccio io! Arco di Dio! Arco di Dio! Sono un bruco e sembra un cazzo, un bru! E tu? E tu? Che cazzo sei tu? Beh, veramente, io sono Alice, non vorrei disturbarla, signore. Mi sa dire dove è viale delle province, per caso. Io non so cazzo! Mi sono drogato! Ah, no, perché sa, ho perso l'autobus e non so dove devo andare. Non me ne frega un cazzo questo drogato! Lasciami in pace! Signore, ma almeno mi rivolga la parola, per favore. Lo sto già... facendo. Ma... sputo lettere! Non so se l'hai notato. Signore, però, porco Dio, eh. Ora lei bestemmia, signorina. Lei è maleducata. Lo so... è che i miei genitori mi stuprono ogni giorno. Stuprono? In che senso? Nel senso che papà mi stupra, nonno, zio... Tutti? Sì, tutti quanti. Allora, papà mi tiene per le braccia e mi dice non guardare piccoli innattito. Allora, questo si chiama... Stupro. Eh... Io... Io... Cazzo è finita l'erba! Ah no, le mie zampe le hanno fermate. Porco Dio! Cazzo di ridi. Allora, io so fare i trucchetti magici, faccio uscire i coccodrilli dal culo. Però... Eh... Quando sono fatto, in realtà, vedo cazzi giganti. È tutto... È tutto... È tutto... È benedio a Cristo, ste gambe di merda! CULONE! Dovrebbe mettersi di dietro, signore. Oh... Al dietro si deve mettere quella trochia della tua madre, quella vacca di merda. Comunque stavo dicendo che... I pescetti colorati se li mangia un... Un affare strano giallo. Ma signore, lei è strafatto, vero? A botta, proprio a bomba a ruota, cioè, non immagini. Signore, che cazzo vuoi? Ancora qui stai? Io sto in essasi, porco Dio! Ah... Signore, signore, me la prego, sia calmi. E c'è... Sai che c'è? Io me ne vado, vaffanculo, mi stuprassero, non me ne fai un cazzo. Tanto sono abituata, porco. Dio, madonna. Stronzo. E io che ti voglio fare leccare i piedi? I piedi! No! Torna qua, ti prego! Ti faccio il soldo e dico con tutte le mani, ti prego! Torna, fammi leccare i piedi! I piedi, ti prego! I piedi, i piedi! I piedi!